Amici buongiorno, ben ritrovati su Teleromagna, la nostra puntata giornaliera di Aspettando Degni di Nota, lo sapete tutti i giorni, cioè tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.30 con la replica al mattino alle 10.45, il nostro appuntamento giornaliero dedicato alle nostre stagioni 2018-2019, 2019-2020 di Degni di Nota. Anche oggi prima di partire con la musica voglio ricordarvi i nostri indirizzi, la nostra mail, la nostra pagina Facebook Degni di Nota, la nostra pagina Instagram di Degni di Nota dove sia lì o là, o di qua o di là potete mandare i vostri video per avere la possibilità di partecipare alla nostra terza edizione, i primi di novembre. Mi raccomando voi amici che ci seguite tutti i giorni, consigliate parenti, familiari che abbiano questa passione per il canto di avere la possibilità, almeno di provarci, di mandare un proprio video. Allora adesso arriva Giorgia Montevecchi, la sentiamo subito a cantare e poi parliamo di lei. Grazie a tutti. Aspettando la fine Andare Perché ferma non sai stare Ti ostinerai A cercare la luce sul fondo Delle cose Comunque andare Anche solo per capire o per non capirci niente Però all'amore poter dire ho vissuto nel tuo nome Ballare e sorrare sotto il sole Non mi importa se mi brucio la pelle Non mi importa se mi brucio la pelle Se brucio i secondi e le ore Non mi importa se mi vedi E cosa vedi Sono qui Sono qui davanti a te Sono qui davanti a te Con i miei bagagli Ho radunato paure Andare Ma che per mano sai stare Ti ostinerai Cercare la luce sul fondo Delle cose E allora andare Che le spine si fanno sfilare E se chiudo gli occhi E se chiudo gli occhi Sono rosa Il profumo Che mi rimane E voglio ballare E sorrare Sotto il sole Non mi importa se mi brucio la pelle Se brucio i secondi e le ore Non mi importa se mi pechi E cosa vedi E cosa vedi Sono qui davanti a te Con i miei bagagli Ho radunato paure E desideri Perché ferma Non sai stare In te Di a notte Ma sai Che mi farò trovare E voglio ballare E so dare Sotto il sole Non mi importa se mi brucio la pelle Se brucio i secondi e le ore Voglio sperare Quando non c'è più niente da fare Voglio essere migliore Finché ci sei tu E perché ci sei tu da amare Che mi sei diventi Cosa vedi Mentre ti sorrido Io con i miei diventi Ho radunato paure E desideri Amici la nostra Giorgia Montevecchi La nostra regina Vincitrice Della stagione 2018 e 2019 Quante belle canzoni Che ci ha fatto Ascoltare In questa edizione Di Degni di Nota Ne abbiamo ancora tante Da farvi ascoltare Amici Non abbandonateci Perché noi tutti i giorni Siamo qui Da lunedì Al venerdì Alle 14.30 Per portare La musica Dei nostri ragazzi In questa puntata Parliamo delle vincitrici Da Giorgia Eleonora Margutti Anche lei Regina Indiscussa Della nostra edizione 2019-2020 Ce la andiamo ad ascoltare Poi torniamo qui A Casa Bergamini Quando io muero Amato mio No cantes Para mi Cacciones Tristes Olvida Falsedades Del pasado Recuerda Que fueron Solo sueños Que tuviste Che falsa Involverabilità La felicità Che falsa Involverabilità La felicità Involverabilità Donde sta Ora Donde starà Mañana Quando io muero Amato mio Non mi mandi Falsedades Falsedades A casa E non pongas Rosas Sobre il marmo De Mi Fosa No No scrivas Cartas Sentimentali Que serian Solo Para Ti No Escrivas Cartas Sentimentali Che Serian Solo Para Ti Quando io Muera Mañana 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 Habrà Cesato Il Miedo De Pensar Que Ya Siempre Estare Sola Que Ya Siempre Estare Sola Sola che già sempre starei sola magnana Ce la siamo proprio gustata la nostra Eleonora Margutti la nostra regina principessa della seconda edizione di Degni di Nota ha fatto un percorso fantastico e così avremo modo di andarci a gustare tutte le canzoni che Eleonora ci ha fatto ascoltare e ci ha dedicato in questa grande galoppata verso il trionfo allora amici vi ricordo prima di chiudere i nostri indirizzi la nostra mail, la nostra pagina Facebook di Degni di Nota Instagram Degni di Nota dove potete consigliare e mandare i video per dare la possibilità a qualcuno chissà che non arrivi a novembre che ci sia qualcuno che avete consigliato voi alla nostra terza edizione amici un abbraccio, grazie a Orogel, allo staff di Teleromagna a Videoproduzioni Maltoni noi ci vediamo domani da Luca Bergamini, da Casa Bergamini un abbraccio grande, vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a 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